Nascondino challenge, non lo facciamo da un bel po' su Fortnite, ma quest'oggi estremizziamo tutto Ma il touch 50 contro 50 Andiamo in una città dove il taglio è sui player nemici E ci dobbiamo nascondere E' difficilissimo perché lì sei sicura, 100% che sarà pieno di gente E' impossibile Steph, è impossibile E poi Steph, io oggi sono vista da lottatrice, da wrestler più precisamente ovviamente E voglio combattere, non è che mi devo solo nascondere Ma se c'è il tuo nascondino che cavolo ti vesti da wrestler allora? E' troppo bella tua skin Sì ma vedi che io sono tutto nero per rimanere al buio, tu no Tu ho tutto appariscente, sbrillucicante E' anche un dinosauro Steph Sapremo chi morirà per prima no? Allora no, io mi munirò di fucile a pompa e se mi trovano gli spari in testa Ok, allora io vado a boschetto, tu vieni con me a boschetto Ci sarà un botto di gente, dobbiamo sperare di atterrare prima che loro inizino ad atterrare E siamo lì lì con i tempismi Ti dico, secondo me sarà più un montage di nascondino Anche secondo me Nel senso che avremo bisogno di due o tre tentativi per beccarne una Tante partite perché finirà male Speriamo bene Allora, inizia a pensare alla città Pensa al punto migliore dove ci possiamo nascondere Boschetto, c'è comunque il burger Che ha la parte tutta di sotto E se te la organizzi bene ti ci puoi nascondere Il tetto, puoi nasconderti dentro il tetto senza farti troppo vedere I tetti comunque delle case Non lo so, ci sono un po' di posti interessanti che secondo me si possono sfruttare Ok, allora Io ho un po' in piano Infatti forse ho sbagliato anche a volare io Leggermente, leggermente, leggermente troppo corto Allora, penso di atterrare giustissimo nella prima casa in mattoni Ok Quindi sono a posto Allora Non so quanta gente ci sarà Ho paura Noi ovviamente nel nostro team siamo gli unici a venire qua Ovviamente Però secondo me siamo usciti ad arrivare quantomeno in step Ah, io mi sto nascondendo qua, Steph Ok Ok Cavolo, anche il piccone è troppo appariscente Ho sbagliato tutto oggi Allora, io non spacco nulla Ok, chiudiamo tutte le porte Così nessuno si accorge che qua c'è sotto la scala magari Sai cos'è? Dovrei trovare delle bende o degli scildini per evitare di avere in mano il piccone Non sarebbe male Non sarebbe male Io sto aprendo una cesta Ok Ok Perché ho trovato un fucile a pompa Vabbè, meglio di niente Ok Chiudiamo tutto, chiudiamo tutto Dove vuoi andare adesso? Che si fa? Allora, vieni Ok Cioè, qual è il tuo piano? Allora, il mio piano è andare qua Ok Ok Facciamo Che spacchiamo qua Eh, ma si nota Lo so, lo so, lo so Però Questa non l'apro pure Ok Potremmo Ok Non lo so, Steph, se non ho un'idea Non ho un'idea Cioè, si nota Tieni comunque Per quando ci uccideranno, Steph Grazie, cara Molto gentile Eh Ma, sai Io Comunque adesso non vorrei essere troppo ottimista Però sento molto silenzio Che io No Cioè, secondo me non c'è venuto nessuno Dici Sì Addirittura Anche perché la zona è lontanissima Ho un trampolino per scappare nel caso in cui ci sparino malamente Ok, ma non è molto nascondino È più Fuga e basta, capito? Fuga da pinnacoli Sì, 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 sì Mi piace Mi piace Beh, però sai Non farsi notare Diciamo che è il modo migliore per fuggire Esatto Quindi sarà comunque un nascondino Sarà molto in stealth Con Steph che è cecchina E quindi sicuramente qui non si è fatto notare Capito? Ha quasi fatto esplodere Ok Scusami Ok Era fermo E poi faceva la vedetta lui, eh Quindi è come metterghia al solide Ti ricordi? Ah, giusto, sì, sì Sicuramente Steph è una buona giustificazione Era la vedetta nella montagna, Fere Adesso non c'è più Ok Ok Ma perché è una ragazza sola da tutto? Non lo so Infatti non è una buona cosa Perché è pieno di portaforte così? Poi soprattutto che escono da terra, capito? Va bene Tutto normale qua Sì, perché poi noi ci dobbiamo nascondere Tutto normale È una cosa ottimissima Ok Vicino, vero? Piano, piano, piano Però mi sembrava il rumore di quando apri l'airdrop Non lo so, non sono sicura No, no, no Mi sembrano spari Spari, spari, spari Ok Dietro Nascondino fallitissimo Che facciamo? Non lo so Tiro granate e scappiamo Pronta? Ok Ok C'è nato sopra, quello è il problema Aspetta Bella L'ho colpito, l'ho colpito, l'ho colpito Ok Quindi deve stare attento Se vuoi ce ne andiamo Sì, io sto continuando a correre È un buon diversivo Allora No, Steph, ci stai seguendo Lo sento costruire dietro di me Mi sta mettendo un'ansia, guarda Tranquilla Non ti vogliamo combattere Lasciaci stare Ti sto guardando alle spalle io Tu non hai visto nulla, caro Caro player E si entrassimo qua? Lui non se lo aspetta Esatto È una figata Tipo caccia all'uomo questa No, arriva, Steph, arriva Allora, io il fucilopo Pompa pronto Anche le mie granate Puzzolenti Vieni, vieni, vieni Steph, è un pazzo psicopatico Vieni, 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 vieni Veloce, faccio, faccio Se l'ha aspettato è come Che noi Siamo entrati qui dentro Ma è uno o due? Non lo so Faccio un po' di casino? No, no Dobbiamo stare in silenzio L'ho visto Sono due, Fere Ok E allora, Steph, fai un po' di casino Sono sopra? Uno è sopra di noi Ok Che ansia sta roba Dovevo essere un nascondino carino No, carino non è mai Sì, ma un po' più rilassante Cioè, gli altri sono andati bene Questo è un altro Perché sono due? Ne avevamo visto solo un player Eh, sarà arrivato Cosa è successo? Qualcuno che è arrivato, forse Che è uscito dal game Ma lo so Cavolo, Steph Però ci hai messo Molto scoperti Ma Ho fatto una finestra Vabbè, scappiamo 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 Ho trovato il player che è arrivato Ok Vabbè, starò uscito Magari è crashato, Steph Sono uscite tante cose Ok Allora, la zona Sta chiudendo, Steph Quindi dobbiamo anche entrare in zona Piano piano Senza farci notare Che facciamo? Non lo so Saliamo da qua? Sì, 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 sì Ok Deve stare molto silenziosi Che poi l'estruttivo sta perdendo malamente Eh, li ho visti Quindi non è che Eh Che sta a fa' quello? Non lo so Ah Ah, per andare in zona Se gli stava anche per arrivare una sniperata Quindi Sì, ho visto Ok 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 Occhio che forse ho sentito passi Ah Qua c'è un portaforte Mmm Non mi piace la situazione Vero? Già Puzza di pericoloso Sì Vieni Ok Tappa Ah sì, ce l'ho nascosto qua Ciao amico Allora Dammi l'oscillino L'oscillino Attenzione a questo qua Ciao Allora, facciamoli tipo questo Perché avevamo calcolato tutto Siamo persone intelligenti, eh Ma perché la gente gioca così? Cosa sta facendo lui? Non lo so Pensare anche cosa stiamo facendo noi Però noi tecnicamente abbiamo anche una giustificazione Stiamo facendo una sfida Ma Ci hai regalato? Ah sì, grazie Sei molto gentile Grazie Ci abbandona Ok, aspetta Ok Ciao amico Ciao È stato breve ma intenso È stato emozionante, sì È molto emozionante Allora Se il nostro team vince È un bel nascondiglio Io te lo dico Siamo anche abbastanza vicini alla prossima zona Quindi poi Oh cavolo Verrà qualcuno, vero? Verrà qualcuno Il rumore non è dei migliori Però il problema è che se il nostro team vince è troppo semplice Se il nostro team perde invece è un casino Ma che fai? Guardalo È quello di prima col minigun È pazzo, Steph È un combattente Ho un'idea Vieni No, però Steph Non devi pensare È troppo facile È troppo semplice Se riusciamo Nel nostro intento Missione compiuta No, noi facciamo il James Bond Devi andare nella parte nemica Di Pinnacoli Senza farti notare A covacciato La scorsa volta è stato un fail Perché il nostro team Ha straperso Quindi Stai ora Non ho armi Non ho armi Non ho proiettili Non lo so Era lì dietro Dietro il muro suppongo Questo qua ancora ci segue È un grande È un grande Bravissimo Sì È morto È morto È morto Speriamo che abbia qualcosa di buono Ho scopato tutto Proprio allegramento Ho scopato tutto Ok Scusa amico ma davvero non c'ho una ceppa Beh Ferre dai Non volevo rubarti tutto Non possiamo Io non ce la faccio a star fermo qua Nascosto mentre i nostri compagni muoiono Oh io sì Se vuoi te lo dimostro anche Steph Eh mi servirebbero cure Tieni ho due bende Ok Tieni Grazie Questo qua si è affezionato a noi comunque Sì Mi piace rimanere con me Ah di nuovo Mi manca ancora il fucile a pompa Nascosti Capiamo dove sono i nostri alleati Considera che i nostri hanno perso Quindi appena con le affine abbiamo perso Wow Già Non è una buona notizia sinceramente Però non capisco Ok Ok Un po' c'è la pompa Anche se è bianco va bene Ok Sento gente che corre un botto eh Dentro E non sono sicura che siano No è nemico Eh alleati infatti volevo dire Non sono sicura che lo siano Qua c'è gente eh E qua sta vicino Ok Ok gli ho fatto un botto di danno Anche io È a terra No non credo Ma perché è immortale Aspetta Perché Te lo metti Te lo metti Perché Te lo metti Perché Te lo metti Ci facciamo un ultimo round Perché raga è capitato a boschetto Che è perfettamente il centro E passa abbastanza vicino Per entrambi le traditorie Quindi io credo che sarà parecchio divertente Beh dovremmo essere nascosti qui dentro Forever Allora prima ci equipaggiamo E poi ci dobbiamo nascondere Ok Perché tanto all'inizio Secondo me siamo molti più del nostro team Che del loro Sì Anche secondo me Però durerà poco Però poi arriveranno tutti qua Per forza di cose quindi Esattamente Oh ho già praticamente tutto quello che mi serve dalla vita No Io no Sono molto felice Molto 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 felice Sto facendo il pionismo di sottica da tua Però non mi sto andando benissimo Ok Vediamo gli scildini Eh belli gli scildini Oh cavolo Oh cavolo Mi sono nascosta No Steph Non mi morire Che paura Nasconditi E cure No Ho uno scildino Ho uno scildino Tieni 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 Ok Che ansia Ma perché ha preso di mira la nostra casa Poi vattene in giro Non rompere Non lo so ma senti tutti gli esplosivi L'hanno proprio preso di mira la grande Cavolo non lo vedo più Abbiamo il tetto in mezzo È morto Ok Però c'è qualcun altro eh Sì per forza Scusate Ci calmiamo qui Dobbiamo cercare un posto Lo scar Steph lo scar Corri 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 Maledetto Vabbè mi prendo questo Dato che non avevo armi Ferre Uè Nasconditi veloce Prendecelo noi Ok Ok C'è un altro scildone Ferre Prenditelo Lo vedi lì Fai finta di non averlo visto Fai finta di non averlo visto Sì sono qui che passeggio come se nulla fosse Ok perfetto Allora Un vero team stealth Deve prendere alle spalle questo qua Sì ovviamente stefa che se l'obiettivo sarebbe nascondersi totalmente ma va bene Facciamolo dopo Sono sopra la montagna Ma tanti Parecchi Non è una buona idea allora Hanno anche il cavolo una bella posizione Ok vedo il cechino Ho avvistato il nostro bersaglio Ok Lui per ora non ci ha visto Per fortuna C'è molto casino lì Ma molto Sembra abbastanza distratto Seguimi Ok Se non ci vede Missione di computer Aiuto Vabbè molto focalizzato a sparare di fronte a lui Esatto 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 Io non fuccio la pompa stefa Ok Però posso sparare col minigun se vuoi Se me vede sono morto Ok continuano a spararlo Comunque è così che è più divertente di nascondi no? Sì Abbiamo fatto la versione più divertente possibile Una sorta di stealth Nascondi Ok Eliminato Bersaglio eliminato C'ha scoperto troppo tardi Quindi ha funzionato Sì Ancora meglio se non c'è essere proprio scoperto Però dai è andata bene Ho un Cioè ho un campfire Ok Sì ma guarda qua Così mi ritorno di nuovo full shield Bello Poi mi prende anche quel bel trampolino Lì c'è un fucile a pompa blu Grazie grazie Ottimo Fere Sento gente Cavolo qualcuno ci ha scoperto stef Ho paura Fere Volato via Volato via Volato via Maledetto Si l'ho preso L'ho preso esatto Ho preso parecchio Cavolo È venuto proprio a prenderci malamente questo Però non si aspettava che eravamo in due probabilmente Allora adesso mi riprendo da C4 Quindi mi avevi detto colpi M16 Allora colpi M16 il tempo solo è 160 Benissimo Ne avevo 13 quindi va benissimo Ok Allora A questo punto Ricarichiamo tutto Ok Comunque è stra divertente La 50 contro 50 ha senso se te la giochi molto sneaky Adesso dobbiamo decidere qual è il nostro nuovo bersaglio Ok facciamoci ancora un po' di legna Che davvero se ci becca qualcuno c'è 300 Ah io ne ho 60 cavolo 60 Ebbè stef l'ho finita Cioè nascondendoci nascondendoci Non è che ho avuto tutto sto tempo di farmare Magari questo qua ne ha un sacco Vediamo Vediamo Dove sei nascosto? Amico solo noi possiamo giocare a nascondino Vieni fuori Sei finita Oh ha corso un sacco Mamma mia quant'è Mamma mia amico Chuck Chuck Bello Buono Riesci a prenderlo tu al posto delle bende? Sì Secondo me ci sta Allora quanta legna aveva? Ah 500 500 Sono a posto Allora Mi ero un attimino distratta perché mi stavo controllando l'inventario Ho visto dove c'è molto del loro team Quindi se andiamo di qui dovremmo poterne prendere alcuni alle spalle Allora il nostro team comunque è in vantaggio di 5 Non tantissimo però ci fa comodo Ho capito Ok ne ho buttato giù una Ok bravo Non resta nessuno quindi Ok esploso A posto Ok Ok ne ho colpito un altro ma non è morto Guarda Steph No no Fere 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 Era bellissimo Abbiamo fatto molto casino quindi ci dobbiamo un attimo muovere E guardare intorno Ok Ok vedi che lì continuano ad andare Sì ma non possiamo attirare troppo l'attenzione Si riversano tutti su di noi E lì poi è un disastro Ecco qua Vabbè eliminiamo i testimoni Ci sta Esatto Ci sta Ci sta Ci sta Ne vedo un altro Steph Lo vedi che corre? Ah sì Oh mi stava guardando Pensavo sparasse Colpito Anche io l'ho colpito eh Colpito A terra Ok eliminiamo le prove Esatto Perfetto A posto Ok Occhio eh Stiamo facendo molto rumore Lì sopra in alto è pieno Zeppo Mamma mia quanti sono Ma sei pazzo? Fai occhio Una terra? Fai occhio Fai attenzione Steph Perché quelli si girano è un disastro Ok E se li prendessimo alle spalle? È molto rischioso Sono tanti Che dici? Non lo so Dai per i roi lo fanno Allora no però Steph non siamo i roi Dobbiamo essere persone codarde che si nascondono Capito? No ma noi siamo i nasconditori che vincono Steph sta dietro Ce l'ho visto? Anche una di fronte Te l'ho detto Te l'ho detto Te l'ho detto Che era una pessima idea Steph No sono troppi Sono troppi Spostiamoci Ok torniamo indietro Torniamo indietro E ci dobbiamo anche muovere Da dietro però dove? No non lo so se era dietro davanti Perché hanno iniziato a derivarmi un sacco di colpi addosso No forse ha ragione Guarda Sì Sta scendendo qualcuno nella montagna Cosa è questo? Aveva ragione Dobbiamo distruggerlo Eh scappa Stef non siamo posizionati bene poi Puntiamo lui Puntiamo lui Lui sembra un grande del nascondino E poi entriamo in zona Mi sa che entriamo anche in zona appunto Eh appunto Quindi è perfetto Perfetto Oh sei un pazzo Cavolo nei piedi Mi ha pigliato Colpito Ok Lì è venuta a paura Lì è venuta a paura Perché l'ho preso in pieno Oh ancora Colpito 23 di vita Quindi è basso ormai Perfetto Ok 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 Una figata sta roba Ma è bello Dove sei? Siamo noi re del nascondino caro Non tu Negli stealth Nessuno saprà mai che fine hai fatto Caro mio Nessuno Non tu Eliminiamo le prove Vieni che ci lo lootiamo va Uh Questa è piena di roba Ok Mestici blu mi serve Perfetto C'è roba che ti serve? Eh Questo lo voglio Boh Ho due granate Non lo so Il medikit lo prendo Sai com'è Voglio rimanere Ok ok Capito In vita fino alla fine Perché sta andando bene Sta partita Sta anche vincendo il team Quindi è Lo so È ottima Noi abbiamo fatto Cioè quante kill hai tu? Io ne ho Tante Cinque Eh io ho una Prenditi lo scar Diciamo che per essere sneaky sneaky Non sta andando male Vieni pronta Sì prontissima Questa è la parte finale Ok In cui andiamo a scovare i sette Esatto Sei anzi Ok dove vai di preciso Per ora qua Ok E poi credo che usiamo un altro trampolino Ok Ok ci sono Ma Ma ne mancavano sette amici Cioè ho detto Vabbè andiamo anche noi A dare il nostro contributo Ho avuto la paura col te Pure a me Perché ti fa la cosa Rallentatore Pensi che ti sta succedendo Sono morto Vabbè GG L'abbiamo fatta Davvero divertente giocare A nascondino A 50-50 Dobbiamo farlo più spesso In ogni caso Ci fermiamo così Qua sotto come sempre Copriano altri video Iscrivetevi al canale Campanellina Ci vediamo in un prossimo video Ciao 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 ciao